Ancora reati da codice rosso nel biellese, vissuti con vergogna e sottomissione da parte delle vittime, tanto che come in questo caso, prima di arrivare a porre fine a questi atteggiamenti violenti, sono trascorsi molti anni. Erano stati dieci anni di inferno. L'uomo si ubriacava regolarmente quando rientrava a casa e maltrattava moglie e figlio. Urla, botte e minacce sempre più pesanti. Ora ha patteggiato una pena dir poco mite, due anni, che con il beneficio della condizionale, con tutta probabilità, gli permetteranno di non scontare nemmeno un giorno di carcere. Era accusato di aver utilizzato metodi violenti e autoritari. Il tutto, come capita sempre più spesso, collegato all'abuso di bevande alcoliche. Si parla di una vita di soprusi, fino a quando la moglie si è decisa a presentare denuncia ai carabinieri. Così, nei giorni scorsi, l'uomo è comparso davanti al giudice dell'udienza preliminare e ha patteggiato una pena due anni di reclusione.